Onorevole De Angelis, insomma, i lavoratori non cedono, non vogliono scendere dal tetto, come si mette questa questione? C'è la disperazione, una disperazione che mi sento di poter condividere, rischiano di perdere il lavoro, bisogna trovare una soluzione, lunedì si deve convocare questo tavolo e si deve trovare una soluzione e il sindaco accetti la proposta della Regione Lazio, che tutela è il lavoro. Ecco, loro si sentono ricattati, perché sostanzialmente dicono, ma dobbiamo scendere per partecipare al tavolo e poi se non c'è l'accordo... Loro non vogliono restare sul tetto, perché non hanno nessuna voglia di stare sul tetto, però loro vogliono la soluzione, questo è il punto, si trovi una soluzione, giustamente loro dicono l'incontro è l'incontro, però come finisce l'incontro? C'è la soluzione? Ecco, noi dobbiamo lavorare per questa soluzione e il sindaco la deve smettere, deve capire che deve aiutare a trovare una soluzione e credo che la proposta della Regione sia la soluzione a questo problema. Ecco, la proposta della Regione è quindi di fare questo incontro e comunque di cercare di assecondare in parte delle richieste dei lavoratori? Ma la Regione è per trovare una soluzione, per difendere i lavoratori, questo è l'impegno della Regione Lazio e quindi noi lavoreremo in questa direzione, altrettanto deve fare il Comune di Frosinone, non può chiamarsi fuori il sindaco. Ecco, e secondo lei perché succede questo braccio di ferro attualmente tra le parti? Ma io ho riflettuto molto in questi giorni, non riesco a capire la posizione del sindaco, non riesco a capire perché questo ostracismo, oltretutto mi pare di poter dire che anche dal punto di vista economico, se lui non trova una soluzione il Comune ci rimette, quindi anche dal punto di vista delle casse del Comune, lui ci guadagna a trovare una soluzione, così come ci guadagnano i lavoratori, quindi è pretestoso, è un dispetto, non lo capisco.